E sono sicuro che avrete notato qui di fianco a me le Maxpedition Pouch Depp, una delle mie pouch preferite. La utilizzo come kit di primo soccorso per le ferite semplici oppure come kit d'emergenza. Shit happens, lo sappiamo ormai. Ve le mostrerò la prossima settimana, non adesso, ma sono assolutamente da vedere.